Emili Ratajkowski e il suo segreto per avere una pelle perfetta Dimentica lo strobing, non c'è più bisogno di dover realizzare complessi make-up per illuminare il viso e ottenere una pelle da vera star Emili Ratajkowski con Ung Bango, il suo make-up artist, ha svelato quali sono i segreti del suo trucco per ottenere una pelle perfetta, che la contraddistingue come una vera regina di bellezza Il rischio che si corre a volte è quello di apparire eccessivamente lucide, rendendo la pelle sudata, questo però non è il caso di Emili Ratajkowski che ha insegnato a tutte le sue fan come ottenere l'effetto fresco della sua pelle, senza l'aiuto di un make-up artist Luminosità in poche e semplici mosse. Lo strobing consiste nel creare zone di luce sul viso ed è l'esatto contrario del contouring che invece crea zone d'ombra È adatto per chi ha una pelle chiara e si realizza stendendo uno strato di illuminante su alcune zone specifiche del viso, come la fronte, il mento, il naso e la zona centrale delle labbra Emili Ratajkowski invece ha deciso di evitare entrambe le tecniche, per seguire i consigli del suo make-up artist Tung Vango Per illuminare il viso come una vera star è sufficiente mescolare alcune gocce di gel illuminante alla noce di cocco con una crema per il viso, che sia idratante, solare o un primo Si tratta di un metodo infallibile che conferisce luminosità dall'interno, penetrando nella pelle e brilla esattamente dove colpisce la luce del sole. Infine si può decidere di applicare anche una cipre abbronzante, in modo da fissare ulteriormente la luminosità In questo modo si ottiene un effetto naturale, più semplice da realizzare rispetto allo strobing e con un effetto assicurato Emili Ratajkowski e i suoi consigli per essere sempre al top. Oltre a questa innovativa tecnica di illuminazione della pelle, Emili Ratajkowski ha confidato anche di seguire una beauty routine specifica per essere sempre al top Per lei la priorità è la pulizia del viso, che effettua ogni giorno con detergenti che agiscono in profondità. In seguito non può mancare l'idratazione delle pelle per mantenerla sempre tonica ed elastica Durante le sue giornate la top model evita sempre di utilizzare il fondotinta, per lasciare la pelle più libera di respirare. L'unica cosa che utilizza è un sottile strato di tinta chiara per coprire le imperfezioni del contorno occhi Non manca mai invece una pennellata di blush che dona colore al viso, un po' di mascara e infine, un rossetto color carne Uno dei suoi make-up preferiti per le occasioni importanti è il Katiaise, che la star ha sfoggiato in diverse occasioni, insieme a sopracciglia perfettamente pettinate Emily Ratajkowski inoltre fa molta attenzione ai capelli, spesso li tiene raccolti nelle sue uscite in pubblico perché tendenzialmente sono molto lisci, troppo per i suoi gusti La top model cerca quindi di conferire volume utilizzando uno shampoo apposito e creando delle onde sia sulle punte, sia sul retro della testa, per dare il giusto movimento Lara Taikowski in generale non ama make-up eccessivi, valorizzando la sua bellezza naturale, anche per questo è amata ancora di più dai suoi fan Grazie a te, a te, a te, a te, a te